Posso approfittare di questo momento morto per chiederne un autografo? Cos'è? Deve sapere che io sono cresciuto in orfanotrofio dai preti e sul muro teneva attaccate due foto. La sua e quella di Alessia Merz. Uno accanto all'altro? Esatto, perché eravate i miei due punti di riferimento. Io e Alessia Merz? Ma sì, perché Alessia Merz quando ha capito che la bellezza stava diventando sempre più artificiale e scontata, è scomparsa apposta, un po' come lei. Come me? Eh sì, perché ha fatto dei grandi colpi da maestro e poi si è ritirata dietro al boss, come a dire noi siamo di nicchia, a noi il grande pubblico non ci capisce.